Buonasera a tutti e questa iniziativa è stata e viene presentata dalla rete Welcome dei musei dell'area fiorentina su arti e scienze. I musei sono, li vedete nella slide, il Giardino di Archimede su cui vi dirò qualche cosa in più tra poco, il Museo della Casa Buonarroti, il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria Paolo Graziosi, il Museo Fondazione Scienza e Tecnica, il Museo Galileo di Storia della Scienza, il Museo Horn e il Sistema Museale di Ateneo che è il sistema dell'Università di Firenze diviso in varie sezioni e oggi è rappresentata la sezione di mineralogia. Allora, sulla ehm questo pomeriggio vedete parleremo di geometria dei cristalli e eh sono presente io, Giorgio Ottaviani, come Giardino di Archimede e poi dopo di me parlerà Vanni Mogicecchi della sezione di mineralogia del sistema museale di Ateneo. Sera. È un piacere è un piacere presentare Paola Gemmi che vedete interprete in lingua dei segni. Grazie a Paola Gemmi eh l'incontro è aperto alle persone sorde che avranno una tradizione una traduzione simultanea. A questo punto dico due parole sul Giardino di Archimede, Museo per la Matematica. In questo momento è in trasloco, sta traslocando a Pistoia. Qui ci sono due fotografie di questa bellissima città dove apriremo la nuova sede a settembre duemilaventidue. In questo momento ci sono dei lavori di ristrutturazione. La sede è l'unicer cioè il polo universitario pistoiese è una zona centrale e molto bella che si raggiunge facilmente a cinque minuti a piedi dalla stazione. Allora venendo alla nostra al nostro incontro oggi vi presenteremo in parallelo alcune strutture eh strutture geometriche e la loro presenza in natura e comincio dalla struttura probabilmente più eh conosciuta il solido più conosciuto che il cubo e ve lo presento attraverso questo disegno molto bello di Escher. Escher è un artista ehm particolarmente famoso per i suoi legami con la matematica e in questa figura rappresenta una tassellazione dello spazio fatta con i cubi. Ecco se vedete la mia manina sta muovendosi sullo schermo su alcuni cubi più piccoli ma sono rappresentati anche dei cubi molto più grandi di cui eh quelli che vedete sono solo gli spigoli e tutti insieme tassellano lo spazio. A me piace molto questo disegno perché eh da un'idea intanto di profondità e poi vedete con la struttura che si vedono in fondo eh ci si riconosce anche l'idea di infinito che si perde. Questa è una struttura in cubi. Ecco dove troviamo i cubi nella realtà è abbastanza sorprendente eh questa fotografia è presa al nostro cugino al museo di mineralogia e la vedrete anche più tardi più grande. Sì sì confermo. Sono cristalli di pirite correggimi se sbaglio presi all'isola d'Elba se non erro e sono impressionanti perché hanno una forma cubica quasi perfetta e qui sono ordinati dal più grande al più piccolo. Come matematica il cubo è formato da sei facce tutte quadrate come in questo disegno e qui c'è il suo sviluppo cioè si può da un cartoncino ritagliare questa figura al lato e piegando il cartone eh si costruisce il cubo come nella figura sinistra e c'è qualche numero importante legato al cubo beh il primo naturalmente che ha sei facce come insomma conosciamo tutti noi che abbiamo fatto qualche gioco con i dadi poi si possono contare gli spigoli gli spigoli sarebbero i lati dei vari quadrati e allora ce ne sono quattro qui davanti poi quattro dietro e altri quattro che uniscono la faccia davanti con la faccia di dietro quindi un totale di dodici spigoli. Per ultimi contiamo i vertici che sono quelli descritti dalle lettere dell'alfabeto questo è facile sono quattro davanti quattro dietro e quindi un totale di otto vertici. Allora il cubo era eh stato descritto molto in profondità nella filosofia greca e Platone aveva preso i solidi regolari di cui questo è il primo un po' alla base dei principi che eh a suo vedere regolavano tutto l'universo. L'universo nel nel timeo di Platone è descritto a part a partire da quattro principi fondamentali il il fuoco l'aria l'acqua e la terra e ecco che c'è questa citazione famosa e alla terra noi assegniamo figura cubica il cubo viene associato alla terra da Platone quindi è uno dei principi fondamentali per l'universo. E facciamo poi ora questa costruzione a partire dal cubo voglio trovare qualche cos'altro. Il cubo ha sei facce allora prendiamo in ciascuna faccia il suo centro e vi faccio vedere cosa succede da questo disegno. Vedete sei facce rappresentano sei vertici che si vedono qui sei centri e eh rimane descritta questa figura in giallo in piccolo che è completamente un'altra cosa. Questa si chiama un ottaedro. Ottaedro perché ha otto facce e Platone la rappresentava con l'aria. Ci sono otto facce sempre triangolari sono tutte triangoli equilateri quattro sopra e quattro sotto. Allora proviamo a descrivere qualche numero interessante per questa nuova figura dell'ottaedro e ci sono otto facce. Adesso se conto gli spigoli ce ne sono quattro sopra. Qui ci vuole un po' di immaginazione a vedere questa figura gialla perché qualcuno lo vediamo ma qualcuno no. Quattro sono a metà tra le due piramidi e quattro sono sotto. Contandoli attentamente sono sempre dodici esattamente come come prima. È più facile contare i vertici perché in questa figura ne vedete uno sopra poi uno sotto e poi ce ne sono quattro in piano quindi fanno un totale di sei vertici. Quindi dal cubo abbiamo trovato l'ottaedro con questa procedura abbiamo preso il centro di ogni faccia. Allora viene voglia di ripeterla questa procedura e di ripeterla dall'ottaedro magari si trova qualche altra cosa di interessante. quindi prendiamo l'ottaedro e prendiamo i centri di ogni faccia. Vedete qui ci sono otto facce e quindi questi otto vertici in blu è venuto di nuovo il cubo. Quindi questa procedura è interessante perché fa tornare al punto di partenza. In matematica si dice che il cubo e l'ottaedro sono duali tra di loro, perché dal cubo si trova l'ottaedro e dall'ottaedro si ritrova il cubo. La figura successiva è probabilmente la più semplice di tutte e Platone l'associava al fuoco. Il tetraedro è più semplice perché ha soltanto quattro facce triangoli equilateri però attenzione in ogni vertice ce ne sono soltanto tre. Vedete ci sono quattro vertici in ciascuno dei vertici partecipano tre facce ma la quarta viene in qualche modo dimenticata. Il tetraedro appare in tantissime costruzioni una in particolare molto responsabile oggi del riscaldamento che abbiamo nelle case la molecola del metano che brucia nelle caldaie ha questa descrizione chimica CH4 cioè c'è un atomo di carbonio nel mezzo e quattro atomi di carbonio che sono esattamente ai quattro vertici di un tetraedro e il fatto che questa struttura sia così semplice è importante perché rende il metano particolarmente ecologico quando brucia non lascia residui. Nel Rinascimento questi solidi erano stati descritti in un libro molto importante a stampa di divina proporzione scritto da Luca Pacioli. Alla fine di questo libro ci sono sessanta illustrazioni di vari poliedri ecco le illustrazioni sono state fatte niente meno che da Leonardo da Vinci quindi eh come illustratore ecco Luca Pacioli aveva scelto bene Leonardo era di sette anni più giovane e qui vi ho riportato come illustra appunto la il poliedro più facile di tutti il tetraedro è interessante perché in qualche modo è appeso a un filo e poi questa struttura è pensata come se fosse di di legno allora il tetraedro e l'ottaedro quindi quello che abbiamo visto in questa slide col fuoco e l'ottaedro legato all'aria precedente si possono alleare tra di loro cosa vuol dire eh per spiegarvelo vi faccio vedere ancora un disegno di Escher eh questo è un pochino più complesso si chiama platelmenti i platelmenti sono questi vermi piatti che vedete sbucare da ogni anfratto di questo disegno ma la parte interessante è che oltre i vermi ci sono soltanto queste figure appunto il tetraedro e l'ottaedro che messi insieme riescono a riempire tutto lo spazio perché interessante perché il tetraedro da solo non ce la fa l'ottaedro da solo non ce la fa e quindi si devono alleare questa parte dove sto muovendo il mouse è un pezzo che viene riempito qui noi si vedono solo triangoli equilateri però sono in modo alternato uno di un tetraedro e uno di uno tetraedro è difficile da vedere e Escher in questo disegno ha una fortissima capacità didattica e vi faccio vedere dei particolari di questo disegno da cui si capisce la costruzione ecco il primo particolare lo dovreste riconoscere questa strato che c'è qui dove c'è un un verme che prova a girare intorno questo è formato tutto da tetraedri però vedete vengono lasciate delle cavità qui ce n'è una qui ce n'è un'altra qui ce n'è un'altra queste cavità sono fatte apposta per ospitare in modo preciso un ottaedro con i suoi quattro triangoli in ogni vertice quindi ho uno strato di tetraedri che ospiterà degli ottaedri e accanto vediamo un altro particolare questo è proprio sul bordo destro adesso è ingrandito questi sono tutti ottaedri uno strato poi un pochino più difficile da vedere ma con un po' di fantasia si può capire come nel mezzo tra due ottaedri può essere ospitato in modo perfetto un tetraedro e così questa situazione si ripete allora dopo questi solidi vogliamo rappresentarli tutti c'è un passo successivo che è quello di rappresentare il solido che ha cinque facce triangolari in ogni vertice questo è uno dei più complessi e si chiama icosaedro icos viene dal venti ehm greco e infatti c'ha venti facce triangolari questa che vedete è una foto del museo della matematica quando era allestito a Firenze adesso questi solidi sono tutti imballati e riapriranno a Pistoia ma vedete questa sala è abbastanza giocosa e i solidi rappresentano un po' nello spirito di Leonardo da Vinci sono stati appesi esattamente come li disegnava lui appesi a dei fili e possono dondolare come delle altalene davanti a voi più grande vedete l'icosaedro questo dietro è un ottaedro e poi qui si vede appena appena un tetraedro e poi ci sono altri strumenti eh dove i bambini che vengono alle già dalle classi elementari possono anche giocare e imparare alcuni principi matematici come qui quello della della leva allora manca l'ultimo passaggio dall'icosaedro devo fare il duale qui ora presento subito il risultato ed è una figura che presento con un cristallo e anche questa impressionante che è un cristallo la cui foto viene dal museo di mineralogia la figura matematica si chiama il dodecaedro è l'ultimo dei solidi platonici che si possono costruire con facce poligoni regolari e a questo punto Platone non aveva più a disposizione principi fondamentali e allora il dodecaedro lo chiamò diciamo la quinta forma a volte si usa il termine quintessenza e dice di quella si fu giovato il dio per lo disegno dell'universo quindi in qualche modo la trama dell'universo secondo Platone era fatta a partire dal dodecaedro. Allora in questa tavola le ho raccolti tutti e cinque i solidi platonici non ce ne sono altri e ehm ci sono i numeri che ci dicono quali sono i vertici gli spigoli e le facce da questi numeri si può capire la dualità che ho presentato perché questo otto vertici del cubo corrisponde esattamente alla riga sotto a otto facce dell'ottaedro quindi la seconda e la terza riga sono duale tra di loro e la stessa regolarità la si vede sulle ultime due righe qui c'è questo venti i venti vertici del dodecaedro corrispondono appunto alle venti facce icosa che dicevo prima del icosaedro quindi quarta e quinta riga sono di nuovo duali fra di loro però c'è qualcosa che accomuna tutti questi eh poliedri questi solidi e lo faccio vedere in una colonna aggiuntiva qua attenzione si fa quest'operazione si prende i vertici meno gli spigoli più le facce per esempio nella prima riga viene quattro meno sei più quattro il risultato è due ecco la cosa interessante che viene sempre due questo due è un po' un invariante in matematica si chiama la caratteristica di Eulero Eulero è un matematico del settecento che descrisse questa proprietà qualunque poliedro descrivete con la forma di una sfera questo numero viene sempre due la cosa interessante è che la forma se la forma cambia per esempio se si descrive una ciambella con un buco nel mezzo e si ci si modella un poliedro questo numero viene zero e viene sempre zero e quindi può permettere di descrivere quella che è la topologia delle varie eh si chiama appunto la topologia dei vari solidi allora ora comincio la seconda parte del mio intervento dove parlerò di qualche cosa di più moderno sia in matematica che anche eh per le sue applicazioni la prima naturalmente che i principi di aria fuoco e aria e acqua e terra sono completamente sorpassati dalla tavola periodica degli elementi che eh è uno dei passi fondamentali della scienza moderna ecco la scienza moderna nasce con Galileo ma questa tavola è una delle grosse conquiste ci dice che con novantadue elementi si può descrivere tutto questi sono i novantadue elementi naturali poi ce ne sono altri aggiunti artificialmente e eh il comportamento a livello atomico di questi elementi può anche questo essere descritto dalla matematica ma serve una matematica più avanzata qui serve qualcosa che si chiama la teoria delle rappresentazioni dei gruppi che una parte dell'algebra avanzata allora prendendo spunto da questo ora voglio fare vedere eh recentemente sono stati eh trovate delle strutture che si chiamano i quasi cristalli che hanno una struttura atomica molto molto particolare e allora per descriverla adesso ehm cerco di rappresentare come si può tassellare questa volta il piano quindi qualche cosa di più semplice con delle figure che sono poligoni regolari la prima immagine la prima immagine rappresenta delle mattonelle a forma triangolare sono tutti i triangoli isosce e triangoli equilateri e vedete dal dal disegno come queste mattonelle riempiano tutto il il piano all'infinito in modo periodico queste sono mattonelle quadrate questa foto è presa dalla eh dal 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 dipartimento di matematica di Barcellona queste sono mattonelle esagonali allora eh dal punto di vista artistico uno può cambiare la forma delle mattonelle sarebbe bello averle di questo tipo Escher si è dilettato a costruire queste mattonelle a forma di uccello che tassellano il piano altre uccelli e pesci e di nuovo questi sono dei cigni attenzione sembrano mattonelli uguale ma in realtà i cigni bianchi e cigni neri sono speculari l'uno all'altro quindi sono di due tipi qui se vi chiedete ci sono più cigni bianchi o più cigni neri naturalmente dalla simmetria del disegno la risposta è che sono in quantità uguale si ripetono c'è lo stesso numero di cigni bianchi e di cigni neri e la cosa però che accomuna tutte queste tassellazioni è che sono periodiche e proseguono all'infinito eh cioè questo vuol dire che presa una fotografia in un punto è completamente uguale a una fotografia presa da un'altra parte allora eh recentemente eh si è generalizzato queste tassellazioni prendendo delle altre mattonelle che hanno dato delle grosse sorprese questo è Roger Penrose matematico e fisico premio Nobel l'anno scorso nel duemilaventi che ha proposto di usare queste due mattonelle che chiamo l'aquilone vedete a forma d'aquilone e la freccia gli angoli di queste mattonelle sono angoli particolari che vengono dalla geometria del pentagono naturalmente un modo di attaccare queste due mattonelle di ricostruire qui vedete di attaccarle e viene fuori una figura che è un rombo ma si possono eh sistemare in un in molti altri modi e questa che vedete ora fra poco la ingrandisco è una tassellazione del piano dove gli aquiloni sono disegnati di questo colorino giallo mentre le frecce sono colorate di rosso ecco proviamo a ingrandirla e vedere che cosa succede in questo modo si può riempire di nuovo tutto il piano però la tassellazione si dice aperiodica perché se fate una fotografia in un punto è diversa da quelle accanto anche se la si può ritrovare localmente per esempio vedete qui c'è questa figura che è un pentagono e se la si ritrova più o meno qua in piccolo ma andando a crescere non c'è nessuna periodicità e allora ci sono infiniti modi di costruire una tassellazione di questo tipo e provando e riprovando uno può ehm vedere che certe eh mosse di allungare questa tassellazione inserendo o un aquilone oppure una freccia possono essere proibite perché non si riesce più poi a chiudere usando nessuna di queste due ecco questo da una struttura matematica molto interessante si chiama una tassellazione aperiodica allora la domanda è ci sono più aquiloni oppure più frecce probabilmente potete eh a occhio vedere che in questo disegno se uno cerca di vederlo da lontano il giallo è un pochino più preminente rispetto al rosso e la infatti ci sono più aquiloni e Penrose ha dimostrato nel 1974 questo teorema che le tassellazioni sono infinite ma in qualunque tassellazione si faccia e riesce a riempire tutto il piano il rapporto fra gli aquiloni e le frecce è questo numero uno più radice di cinque su due questo numero è proprio il rapporto aureo è la divina proporzione del titolo del libro di Pacioli illustrato da Leonardo da Vinci e lo possiamo vedere in opera qui nel Palazzo Vecchio quando io porto qualche visitatore a vedere Palazzo Vecchio sempre eh gli chiedo immaginatevi come sarebbe se la torre di Arnolfo fosse esattamente nel mezzo e naturalmente la struttura estetica verrebbe molto più brutta la torre di Arnolfo è stata posta in modo da rappresentare la divisione di tutto il il lato di Palazzo Vecchio proprio con il rapporto aureo che ha questa proprietà che tutto il lato sta alla parte di sinistra come la parte di sinistra sta alla parte di destra questa è una proprietà intrinseca e questo era il motivo anche per cui Gianluca Pacioli eh studiava oggetti di questo tipo e in questa rete di incontri eh Beppe Conti ha fatto per il giardino di Archimede una conferenza intera legata a questo ecco qui lo vedete in questa fotografia fa anche un'altra attività che è aperta eh con altre guide che si chiamano le passeggiate matematiche che vi invito a eh potete prenotarvi sul sito del giardino di Archimede questa foto è scattata proprio in piazza Signoria lo potete riconoscere e c'è davanti la spiegazione proprio della parte che stavo spiegando della torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio allora dove entrano però i quasi cristalli in questa struttura ecco questo è un quasi cristallo eh artificiale che è stato eh creato in laboratorio da delle forme di alluminio e manganese vedete c'è già una cosa particolare che c'è un pentagono qui e prima quando ho tassellato il piano ho usato triangoli quadrati esagoni ma i pentagoni no con i pentagoni non si riesce a tassellare il piano però i pentagoni li abbiamo visti prima in opera nella tassellazione di Pinrose allora qui c'è stata una intuizione che eh è possibile eh trovare in natura queste strutture e un nostro collega dell'Università di Firenze si chiama Luca Bindi qui era a bordo di questo mezzo ed è niente meno che in Siberia ed è andato a ricercare un con varie intuizioni un quasi cristallo e alla fine è stato trovato ecco questa è una fotografia e la struttura atomica dei quasi cristalli segue la tassellazione di Pinrose questo è un fatto veramente unico importante ecco qui mi fa piacere fare la pubblicità a questo libro divulgativo di Luca di Luca Bindi sui quasi cristalli e termino eh facendo vedere il sito del Giardino di Archimede arrivederci a tutti prima che apriamo a settembre duemilaventidue arrivederci alla festa della matematica che è prevista a Pistoia per marzo aprile duemilaventidue e sarà basata proprio sui rapporti tra matematica e arte con questo vi ringrazio concludo e ora termino la mia condivisione e cedo la parola a Vanni Moggicicchi buonasera eh grazie a tutti per la grazie Giorgio per questa bellissima esposizione che fra l'altro appunto ha in più punti citato il nostro museo e per l'appunto userò anch'io la stessa immagine che della pirite che tu hai utilizzato e facendo una piccola precisazione. L'argomento di cui vi parlerò oggi che prende spunto dalla 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 parte che ha esposto così eh diciamo esattivamente e accuratamente ehm Giorgio Ottaviani è il rapporto che c'è tra ehm i poliedri eh geometrici e i cristalli quindi io ho intitolato questa parte dall'ordine geometrico a quello naturale. Allora il non sto a illustrarvi appunto quello che è la descrizione dei soli platonici che ha così ben esposto eh Giorgio e direi di passare eh subito a a vedere quali sono le regolarità presenti all'interno dei cristalli naturali. Allora la prima di fare questo mi occorre che ehm che faccia una una piccola eh che dia una serie di definizioni diciamo che per poter comprendere un po' l'argomento eh che stiamo illustrando. Allora definiamo che cos'è un solido cristallino. È un aggregato tridimensionale di ioni e atomi e molecole disposti ordinatamente nello spazio a formare un reticolo. Quest'immagine che vedete sulla destra è l'immagine della struttura del sale da cucina, il cloruro di sodio. Queste grosse sfere rappresentano eh gli atomi di cloro e le sferette più piccole rappresentano invece gli atomi di sodio. come vedete si tratta di una struttura cubica. Ehm veniamo invece adesso eh alla definizione di minerale. Solido cristallino formato in natura con caratteristiche fisiche e chimiche ben definite. Per definire un minerale occorre conoscere la sua struttura cristallina e la sua composizione chimica. Un ehm una eh una disposizione regolare di atomi costituita da ehm allineamenti regolari di atomi che non sono complanari, cioè non appartengono allo stesso piano. I fili, questi allineamenti vengono detti filari. I filari sono omogenei ed infinitamente estesi, in linea teorica naturalmente, periodici. Ehm eh gli uni dagli altri e discontinui gli atomi sono separati da spazi vuoti. Mh un'altra definizione importante è quella di cella elementare. Per descrivere un reticolo cristallino occorre dire qual è l'unità minima ripetendo la quale nelle direzioni dello spazio si riesce a coprire un intero edificio cristallino, quindi si origina l'intera struttura cristallina. Altro termine, quali sono i tipi di celle elementari possibili? Sono in tutto quattordici chiaramente descritti sulla base delle osservazioni fatte sui cristalli naturali. Sono quattordici che sono definiti sulla base di alcuni parametri, cioè le misure vere e proprie del reticolo, dette anche costanti cristallografiche. Queste misure esprimono le distanze di ripetizione dei punti fondamentali, diciamo i nodi del reticolo nelle tre direzioni dello spazio, che sono gli assi cristallografici di accrescimento, di accrescimento del cristallo stesso, misurate in Engstrom le distanze e gli angoli tra i tre lati della cella misurati in gradi. Questo che vedete qua è la rappresentazione delle quattordici celle elementari, sulle quali però non mi sto troppo a soffermare. Ecco, quindi abbiamo detto parametri, definizioni di base e osservazione che all'interno delle forme cristalline presenti in natura, gli angoli formati tra le facce dei cristalli sono costanti. Questa osservazione risale addirittura le prime osservazioni di questo tipo al 1600. Il primo grande scienziato che ha osservato questa regolarità è Niccolò Stenone, che nel 1600 studiò i cristalli per l'appunto appartenenti alle collezioni dell'attuale sistema museale di Ateneo, del Museo di Storia Natale dell'Università di Firenze, e riuscì a misurare queste regolarità, scusate un secondo, queste regolarità e vide che appunto gli angoli formati fra le facce erano costanti. Tutte le forme esistenti tra i cristalli si possono quindi descrivere immediata una combinazione di elementi di simmetria, in particolare assi di rotazione, piani di riflessione e centri di inversione. La scienza che descrive gli elementi di simmetria è detta cristallografia morfologica. Attualmente la cristallografia morfologica non si usa quasi più, naturalmente non è più utilizzata per lo studio dei cristalli, però i suoi fondamenti rimangono. Vediamo che cosa significa la simmetria per rotazione. Si è notato che alcune facce dei cristalli sono tra di loro omologhe, cioè ruotando il cristallo attorno ad un'asse, una faccia del cristallo si sovrappone ad un'altra del cristallo stesso omologa. Guardiamo subito l'esempio della figura in basso. Questa faccia qui, di questo solido, può essere sovrapposta a se stessa, diciamo, alle facce omologhe mediante rotazioni di 90 gradi. Però perché la condizione di simmetria sia vera, bisogna che rotazioni multiple riportino la faccia nella posizione iniziale, cioè quei rotazioni multiple riportino questa faccia qua esattamente di nuovo in questa posizione. E possiamo vedere in questo esempio come ciò avviene. Rotando in 90 gradi la faccia si posiziona in questa direzione, rotando altre due volte, scusate altre tre volte per 90 gradi, si arriva alla posizione iniziale. Quindi con quattro rotazioni di 90 gradi si torna alla posizione iniziale. Quindi abbiamo individuato un asse di rotazione quaternario che prevede appunto quattro rotazioni di 90 gradi. Si possono però individuare anche assi che permettono sovrapposizione ogni 180, 120 e 60 gradi. Questi assi prendono in cristallografia un nome diverso. Quando alla rotazione di 180 gradi si parla di asse binario, quando è di 120 gradi ternario, di 90 gradi quaternario e di 60 gradi asse senario. Come vedete tra questi manca per l'asse 5, cioè la simmetria pentagonale in cristallografia non esiste, per l'appunto quella di cui stavo parlando prima. Vediamo adesso la simmetria per riflessione. Questo esempio è più semplice, più facilmente comprensibile a tutti. La simmetria per riflessione è quella che noi abbiamo nelle mani. Se noi posizioniamo le mani una di fronte all'altra vediamo che ogni punto della mano è in corrispondenza di un altro punto della mano sinistra e in corrispondenza di un altro punto della mano destra. Graficamente per simboleggiare questo tipo di simmetria si utilizza il simbolo di un piano. L'ultimo tipo di elemento di simmetria importante per descrivere appunto i cristalli è la simmetria per inversione. Per descrivere questo tipo di simmetria si utilizza, ho utilizzato perlomeno io, l'esempio della lettera F maiuscola. Vediamo che ciascun punto, ciascun vertice della lettera F corrisponde a un proprio corrispondente e unendo i punti corrispondenti tra di loro tutte le rette che li uniscono passano attraverso un unico punto che è detto centro di inversione. Questi elementi di simmetria a cosa servono? Permettono di definire alcune figure solide, la combinazione delle quali può arrivare a descrivere la forma dell'intero cristallo e le forme di tutti i cristalli conosciuti in natura. Queste definizioni non vi devono spaventare, si tratta semplicemente di un modo per definire per esempio una faccia isolata, pedione, due facce simmetriche per rotazioni di 180 gradi dette sfenoide, due facce invece simmetriche per riflessione dette doma e due facce simmetriche per inversione dette pinacoide. Lasciamo stare questi termini complicati ma guardiamo invece qual è il risultato della combinazione di queste facce. Alcune facce che hanno un vertice in comune e rotazioni che vanno da 180 a 30 gradi danno origine a una piramide. Questi simboli che vedete quassù sono gli assi di rotazione grazie ai quali la combinazione di facce torna nella condizione iniziale. Stessa cosa si può dire per il prisma è una combinazione di facce parallele all'asse di rotazione, quindi si ha una sovrapposizione per rotazione. Queste che vedete sono le figure risultanti che sembrano abbastanza complesse e non sto a entrare di troppo nel dettaglio. Abbiamo scalenoedri, trapezoedri, romboedri, bisfenoidi eccetera, ma abbiamo anche più semplicemente delle doppie piramidi dette appunto di piramidi, cioè piramidi che hanno in comune una faccia piana sostanzialmente e che sono simmetriche anche rispetto a un piano che li divide in due orizzontalmente. Combinando i parametri reticolari e gli elementi di simmetria si ottengono una serie di sistemi cristallini e di classi cristalline che definiscono i tipi di forme possibili nel mondo minerale. Vorrei prima illustrare cosa sono le classi cristalline. In natura ne sono state individuate 32 appunto sulla base degli elementi di simmetria, ma ogni classe è stata descritta con un nome descrittivo, ma è con un simbolo. La parte più importante è proprio il simbolo, perché il simbolo nel simbolo, grazie a questi caratteri affanomenici detti di Herman Mogen, sono riassunti gli elementi di simmetria presenti in quella classe. Per esempio la classe trapezoedrica ha come simbolo 6-2-2, vuol dire che c'è un asse di rotazione scenario 6 e due assi di rotazione binari 2. Quest'altra classe invece ha un asse di rotazione 2, la prismatica, e uno specchio, una riflessione adesso perpendicolare. Si usa il termine la M dal miroir, che in francese vuol dire appunto specchio. questo è semplicemente l'elenco delle classi e appunto non vi voglio tediare con la descrizione di ciascuna, però vi faccio vedere come i simboli descrivono in maniera univoca gli elementi di simmetria presenti. E più importante è quest'altra rappresentazione in cui si vede come le classi sono raggruppate in sistemi cristallini. Adesso torno un attimo indietro a questa immagine qua, che fa vedere appunto i sette sistemi cristallini che sono distinti sulla base di differenze o analogie tra i parametri reticolari. La cosa più importante da sapere e da ricordare è che esistono tre gruppi di cristalli, gruppo trimetrico, quello dimetrico e quello monometrico, che si distinguono sulla base del fatto che nel gruppo trimetrico i tre parametri di misura nelle tre direzioni dello spazio sono diversi e di volta in volta gli angoli possono essere o tutti diversi, come nel treclino, o uguali, due uguali, il terzo diverso, oppure tutte e tre uguali, quindi angoli di 90 gradi sostanzialmente. Nel gruppo dimetrico, come dice il nome, due parametri sono uguali, il terzo è diverso e gli angoli sono comunque già in tutti e tre i casi. Nel primo caso sono di 90 gradi, negli altri possono essere di 90 o 120, comunque tutti regolari. Il sistema cubico è quello nel quale i tre parametri sono uguali e anche i triangoli sono di 90 gradi, è il cosiddetto sistema massima simmetria. Ecco, dopo aver fatto questa lunga esposizione delle caratteristiche sulla base delle quali si possono descrivere le forme, in realtà quello che succede in natura è qualcosa di completamente diverso, di abbastanza diverso, diciamo. Le modalità di ripetizione delle celle nello spazio sono infinite e quindi si formano dei cristalli in cui di volta in volta si possono sviluppare varie facce, combinazioni di facce teoriche possibili, che danno quindi origine a forme macroscopiche estremamente diverse. Per esempio, una cella trigonale ripetuta all'infinito, come si vede in questa rappresentazione abbastanza chiara, può dare origine a un cristallo apparentemente di forma esagonale. Bene? Quindi è un piccolo prisma trigonale che si ripete infinitamente nello spazio. Stessa cosa avviene per le celle tetragonali e per le celle cubiche. Molto chiaro è l'esempio del sistema cubico, dei piccoli cubetti assemblati tra di loro in modo diverso, possono dare origine rispettivamente a una forma combinata di ottaedro e cubo, oppure rombo-dodecaedro, oppure rombo-dodecaedro e ottaedro, eccetera, eccetera, eccetera. E anche il pentagono-dodecaedro di cui magari parliamo un po' meglio e più avanti. Ecco, il risultato finale è questo. Questa è una fotografia della vetrina, di una delle vetrine della nostra esposizione attualmente di Via Lapira, e poi dirò alla fine un'importante informazione riguardo al nostro allestimento, nella quale abbiamo deciso di rappresentare i vari, le varie forme possibili per la stessa specie. A essere precisi qui non si tratta per tutti gli esemplari della stessa specie, ma a parte due eccezioni, gli altri sono tutti esemplari dello stesso minerale, che hanno semplicemente la caratteristica di avere delle forme diverse. Molto evidenti sono questi due esemplari. Si tratta di calcite, carbonato di calcio, nelle sue varie forme possibili esistenti in natura. Ecco, questa è proprio la fotografia che faceva vedere Giorgio prima, cioè cosa significa passare dalla materia totalmente cristallina alla materia totalmente non cristallina. Questa è una serie di cubi di pirite, che però non vengono dall'isola d'Elba, ma vengono dalla miniere di Logronio in Spagna, che sono diversi tra loro semplicemente per il fatto che hanno avuto, i cristalli hanno avuto più tempo per accrescersi, ma la forma è identica in tutti i casi. Questi invece sono dei blocchi di ossidiana liparite, che sostanzialmente è un vetro, quindi ha una sostanza solida ma amorfa, senza una struttura cristallina ben definita. E vediamo adesso alcuni degli esempi in natura appunto dei cristalli dei vari gruppi, dei vari sistemi. Quindi il sistema trigonale e esagonale, i prismi all'interno sistema trigonale e esagonale sono quelli caratteristici, per esempio, del del berillo, che è il minerale di cui fanno parte sia l'acqua marina che lo smeraldo. Qui vediamo appunto delle fotografie e questo invece è un esemplare presente nelle collezioni del Museo di Historia Naturale. Fate conto che questa distanza, questa misura qua, è attorno a 40 centimetri. Questo è un unico cristallo di più di 40 centimetri di dimensioni, un pezzo straordinario naturalmente. Queste invece sono le forme del del sistema trigonale. Il romboedro, per esempio, il romboedro più tipico è quello della calcite. La calcite in questo caso è il cosiddetto spato d'Islanda, che ha anche delle proprietà ottiche particolari. Ha queste piccole, si vedono anche proprio nella spaccatura, nella frammentazione, si ripete questa forma del romboedro che può essere ripetuta in tutte le direzioni dello spazio. Qui ho messo un cubo per sottolineare che è diverso dal cubo, è come se fosse un cubo fra virgolette piegato. Ecco, la figura corrispondente è questa che vedete qua, che ha la caratteristica di non avere un piano di simmetria in direzione orizzontale. Questa è la cosa un po' caratteristica. Allo stesso sistema appartengono anche la figura dello scalenoedro e, per l'appunto, la calcite si può presentare sia in forma di rombi che di scalenoedri. Questo è un bel esemplare sempre delle collezioni del nostro museo. Non poteva mancare in questo escurso naturalmente il cristallo di quarzo, tra i più comuni minerali esistenti in natura, e che ha anche una particolarissima caratteristica della stessa specie, esistono delle forme sinistre e delle forme destre, cioè delle forme nelle quali si sono sviluppate alcune piccole faccette che ci fanno capire che ci troviamo di fronte alla forma sinistra e altre nelle quali queste faccette sono come se fossero speculari rispetto alle prime. È come se qui immaginassimo di avere uno specchio e questa immagine si vada a proiettare, l'immagine di questa faccia si vada a proiettare esattamente in questo punto. Questa è una caratteristica che ha anche delle conseguenze dal punto di vista delle proprietà fisiche del quarzo stesso. E infine concludiamo con il sistema cubico, è quello del quale fanno parte tantissime specie mineralogiche, alcune conosciutissime appunto come il salgemma o anche la pirite, rappresentata in questa fotografia, altre un po' meno conosciute come la galena, il sulfuro di piombo, o la florite, il fluoruro di calcio, che per l'altro è anche alle volte anche ingannevole perché si può presentare in forma di cubi, ma alle volte anche in forme di ottaedri. E questo è un cristallo di forma ottaedrica, che fa sempre parte del sistema cubico, di un minerale piuttosto raro, la hauerite, di cui noi abbiamo appunto un bel esemplare. E altre forme del sistema cubico, che ho messo più che altro per la bellezza degli esemplari che ne fanno parte e per, diciamo, per completezza di esposizione, sono appunto il romboedro, come questi bei granati della valpassire crita del sieno, o anche quest'altro granato sempre, questa è addirittura la stessa specie con caratteristiche leggermente diverse dal punto di vista chimico, ma per l'appunto la forma cristallina è piuttosto diversa, è quella dell'icositetraidro. E qui vediamo appunto all'apirite, il pentagono dodecaedro, o dodecaedro, detto più sinteticamente, che però ha una caratteristica, e qui mi permetto di correggere parzialmente quello che ha detto Giorgio, cioè che la figura che completa, questo è proprio lo stesso esemplare che aveva messo nell'esposizione Giorgio, nella presentazione, però qui c'è una caratteristica, uno dei lati di questa figura ha una misura diversa rispetto agli altri, quindi in realtà questo non è un pentagono regolare, è un dodecaedro naturalmente, ma non poteva essere un pentagono regolare perché altrimenti si sarebbe individuata una simmetria pentagonale che fino alla scoperta di Luca Bindi e dei quasi cristalli si riteneva impossibile esistere in natura. Oggi si è appunto capito che esiste anche questo tipo di simmetria, anche se si tratta di un caso estremamente particolare perché, come forse qualcuno di voi ha visto, ha letto su internet, si tratta di un materiale addirittura generato dall'impatto di un asteroide, di un frammento di asteroide diciamo, sulla Terra. Quindi un materiale che ha fatto sì che la pressione arrivasse in un punto specifico a valori elevatissimi e quindi si tratta in un certo senso di materiale extraterrestre. Il campione tipo di questo nuovo minerale, l'icoseidrite, è per l'appunto depositato presso le collezioni del nostro museo. Io ho terminato, vi faccio vedere un'immagine dell'attuale allestimento del museo in via Lapira e vi faccio vedere quello che è lo schema di quello che sarà il nostro nuovo allestimento presso il museo della specola, dove ormai da... voi forse sapete che il museo è stato chiuso nel 2019 per grossi lavori di ristrutturazione degli ambienti e la preparazione degli ambienti per il nuovo allestimento della collezione Lito Mineralogica, che appunto verrà qui trasferita e naturalmente valorizzata in tutti i suoi componenti. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo, al nostro prossimo incontro. Grazie.